beh, questo è il mio profilo vediamo se trovo più o meno una foto che parlava dei cartoni, sì no, questo è un video mio eccolo non li ho mai sopportati cioè le due estremi una via di mezzo mi piace la moderazione anche i due fogli estremi non mi vanno io, parliamo dei cattolici allora, i cattolici divorziano i cattolici abortiscono i cattolici hanno rapporti prematrimoniali i cattolici commettono adulterio i cattolici usano il preservativo i cattolici hanno rapporti omosessuali allora, a questo punto i cattolici si ricordano di essere cattolici solo quando devono impedire agli altri i cattolici ciò che loro fanno abitualmente andiamo avanti un caro saluto a chi si batte per la famiglia tradizionale composta da moglie marito figli cane e poi io aggiungo gatto e tralascio questa che non la voglio menzionare netaniel Hitler non voleva sterminare gli ebrei era stato l'idraulico a collegare alla doccia il tubo sbagliato ovviamente la canna da gas questa storia è che i cardinali se l'hanno a morte più con i divorziati e i gay che con i pedofili e i mafiosi gli disgusta infinitamente fa forza con i mafiosi e i pedofili vengalo io basta che te vada sotto il vaticano e se dirai sono i bambini scheldri bambini ancora in basso meglio evo di oh questa è fantastica Renzi per combattere la povertà dobbiamo creare ricchezza se vanno partire a fama e sarebbe bisogno che domani eh ma in basso non devi venire ovvio allora questa è la verse collega il primo non temo il parere della chiesa in sé io temo la convinzione che sia il nostro dovere starlo a sentire a scrivere i commenti che dobbiamo ascoltarli Renzi aiuteremo i bambini poveri dopo gli 80 euro arriva la manovra da 80 centesimi bene bene Dio crea il divano e fu sabato come il sabato era soldi a fare i lavori in casa bene chiudo vi saluto a tutti ciao vediamo qua con Funzia grazie bene ciao a tutti sono le 20 e 18 dai 26 sono le 20 e 18 dai 26 bene quando si lascia del 10 e 20 e 15 stop stop